Ciao ragazzi, qua è nido e siamo qui quest'oggi con un nuovo video, questa volta siamo su NBA, insieme ad un altro mio amico, che è... Questo video non uscirà mai, penso. Ragazzi, siamo all'accesa peak Energy Arena. Ahia! Mi ha fatto male. Ma non è quello del 2003. Oh mio Dio! Subito! Dopo 8 secondi! Ecco qua! Sono 4 tempi da 5, quindi 20 minuti, ottimi. No, no. Grandissimo, sei troppo forte. Nicolò! Così da dire in questi 3 minuti di partita. A posto! No, dai, no, no, no. Arriva... Goh, 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 goh. No, no. Affanculo. Uh! Non so' giocare. Nova, è la teore... Della Germania. Come la ballo? Che? Che? non in faccia era libero ma ho naggiato vita mamma mia si vola qui 5 minuti di puro spettacolo schema schema a casa Jackson Martinez si è bloccato ottimo ottimo no no ehi, 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 ehi una volta sei un figlio di mignotta senti scusami sono incorto nel campo dell'NBA Durant contro James Durant è la meglio Durant non fa la schiacciata perché tu sei un goli go 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 dove vai? dove vai? dove vai? non va dai, 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 ultimo minuto ultimo lo stesso non fa, non faccio cosa? non va cosa sta succedendo? fermatelo, fermatelo no, fermatelo 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 e va a fanculo quanto ti faccio sbagliare con le 1 con le attive ah, non è un tiro ottimo non va prendere il basso Jackson dance dance for three non va no, eh no fermo, fermo è solo che quando si prendono queste 3 e le due team si perdono non ti prendono il risultato fallo tuo è è il tiro? no, voglio avere un tiro se ti faccio sbagliare di prepotenza dov'è? se ricamera la manning è incompetente noo uuuu oh noo tremendo balance follow through arc rotation wow waiters non va guarda James niente uuuu che pono l'ho rubato attenzione una partita bellissima non va lo vede? attenzione madonna i rimbalzi 0 oh mio dio faffanculo che cosa? vai vai basta io qui no vai vai ci vaffanculo 42 secondi alla fine No, va a West, non va Ultimo forse, bucchia Cavaniers Non va, sbaglia tutto Dai, dai, chiudiamo La chiudiamo bene, non va, non va Moduna con il tifone Achili Sì No, no, di un punto 9 però Dai, teniamo palla, teniamo palla Westbrook, Westbrook Secondo quarto per lui Fallo, dai, fallo 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 Sì, è un figlio di vittane Grazie Allunga di 5 Scriveranno, eccezionale No, 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 troppi fagli ragazzi, calma Tu sei assoluto di pensieri Vabbè No, perché sei sempre libero Dai, zitto e gioca But they speak the language of basketball Uuuu, non va Uuuu, ignoranza pura Era da solo, si va a scherciare No, lo sapevo Figlio di vittane Vai, vai Ok, 52 secondi del terzo quarto, eccezionale Vabbè For three Non va No Cavolo, non c'è difesa James, credibile ancora James, James 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 Perdo una palla Incredibilmente Si ferma Vuole tirare la tre E lo tiene No Ah no, cazzo Va sempre che ho un tiro da favore No Non va Si vedeva lontano un miglio come andava Uuu Ignoranza pura Ancora una volta Oh Oh Mio dio No Sulla ventina Eh 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 Meno nove Eh Meno nove Eh Poi Sop D Sop 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 So Sop 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 la città via il distacco si fa sempre più lontano non è possibile non non, non, non Bocca, non è scato perché c'è questo? c'è tutto quello vai vai andiamo a Berlino la chiude qui quella voleva la vittoria ok finisce qui stringiamoci la mano affoncura mi piace sbagliare vediamo insieme ai miei lights posto il palermo il mio right now top place dattato posti vediamo insieme eravamo a reddito un po' si chiudex vediamo a finito a posto ok ti spero il video vi piaciuto scelta e come dovete fate iscrivetevi passate al canale mio amico ma aspetta un momento appunto a posto